Buongiorno, benvenuti, grazie di essere con noi, direi di cominciare la nostra 25esima edizione dell'osservatorio, la mia credo 18esima, quindi non so se è troppo o troppo poco, non lo so, lo scopriremo. Il nostro modello è sempre lo stesso, condivisione di contenuti, condivisione di capitale intellettuale, voglia di stare un po' insieme e possibilmente un po' di visione sul futuro. L'osservatorio di quest'anno vuole essere un po', se volete, out of our traditional scope, quindi andare oltre il tema della dimensione dell'analisi del mercato del lavoro da un punto di vista dei fenomeni retributivi piuttosto che fenomeni di gestione, ma vuole provare a dare delle outside view su come sarà il mercato del lavoro, quale saranno le priorità delle char per il 2024, che sfide state affrontando. Questo non vuol dire che non c'è robustezza su quello del nostro core business, ma abbiamo deciso di, ormai da qualche anno, di allargare i ragionamenti e di trasformare veramente questo evento in un momento di confronto e di lettura. Approfondimenti poi di dettaglio invece li daremo poi come follow up successivo. L'agenda di oggi, adesso ve la racconto, però, nello scorso osservatorio ci eravamo fatti una promessa di chiedere anche alle nuove generazioni qualcosa e poi di riflettere su quello che le nuove generazioni si aspettano da noi. E quindi comincerei da questo. Cosa vuoi e cosa assolutamente non vuoi dal tuo lavoro? Vorrei che non smettessi mai di insegnarmi qualcosa di nuovo, perché sono della filosofia e non si smette mai di imparare e non vorrei assolutamente che influisse nel mio quotidiano rendendomi più aggressivo e nervosa. Ma allora, sicuramente ho bisogno di lavoro che mi faccia sentire realizzato. Io credo che il lavoro non sia tutto, ma sia una parte molto consistente della propria vita e quindi voglio un lavoro che mi dia soddisfazione. Allo stesso tempo voglio un lavoro che mi dia grande flessibilità. Io sono una persona che lavora a ogni ora del giorno, ma lo faccio con i miei tempi e con i miei ritmi e quindi niente orari rigidi. Una cosa che cerco nell'azienda in cui lavoro è sicuramente imparare sempre qualcosa di nuovo e soprattutto la flessibilità e la diversità. Quindi farlo attraverso modalità diverse e con persone sempre diverse. Ciò che invece non voglio assolutamente è un'azienda che non incarna dei valori che non condivido. Quindi cerco qualcosa in cui medesimarmi e che appunto possa portare avanti i miei valori. Questo mi può permettere di portarli avanti in maniera anche genuina. Lei abbiamo selezionato tre interviste che hanno in, quanto è, un minuto? Insomma, tantissime pillole che le nostre organizzazioni incarnano, cercano di incarnare e che le nostre persone ci stanno chiedendo. Poi lo riprenderemo, lo riprenderemo alla fine, parto dalla fine, faccio al contrario, l'agenda alla fine, perché alla fine avremo una tavola rotonda con alcuni Forbes under 30 che hanno fondato delle testate giornalistiche e ci interrogheremo, ma veramente, dal vostro osservatorio, come dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo fare per attrarre il capitale umano del futuro, per mantenere, per ingaggiare il capitale umano del futuro. Una prospettiva diversa, l'abbiamo voluta mettere a terra, scaricare e speriamo che la discussione e l'esercizio sia interessante. Prima, vedete la nostra agenda, abbiamo chiesto al professor Billari di essere con noi e abbiamo chiesto a lui di parlarci di demografia, cioè di fare un ragionamento, ancora una volta, un po' out of our scope e riflettere su quello che ci aspetta da un punto di vista di bacino del capitale intellettuale, bacino del capitale professionale per i prossimi anni. Secondo momento, ringrazio la dottoressa Borromei, la dottoressa D'Agostini, il dottor De Santis, il dottor Ghilardi e il dottor Speziotto, perché con loro faremo una pillola sulle priorità, cioè vogliamo capire da loro le loro priorità, le priorità delle grandi aziende italiane su diversi settori e riflettere quanto queste priorità, vi suggerisco di leggerle così, battono, sono diverse rispetto alle vostre priorità. Il tema delle priorità per me è importante, perché normalmente sulle priorità si allocano gli investimenti e si fanno i disinvestimenti e questa è una cultura manageriale che credo che nel nostro Paese deve rafforzarsi sempre più, quindi il ragionamento sulle priorità è collegato a questo. Dopodiché avremo 1, 2, 3, 4, 5, 4, diciamo, le abbiamo chiamate così, workout session, con un modello misto, Mercer testimonial, che andremo a indagare quattro pilastri, che sono i pilastri della nostra strategia di posizionamento al mercato, che vedete che sono leggermente diversi da quello che è il tradizionale modo delle nostre società di raccontarsi, quindi parleremo di sostenibilità con Laura Innocenti e con Valentina Mosca e il dottor Orefice, parleremo di people risk con Alessandro Cortesi e il dottor Chimirri, parleremo di reward e well-being, interessante l'abbinata dei due elementi, con Maria Grazia Galliani, Sara De Rocco e con Luca Baroldi e con la dottoressa Segalini e poi dopo il launch andremo a parlare di futuro del lavoro, con ancora Luca, Silvia Vanini e ringrazio la dottoressa Pessina. Il nostro ragionamento è quindi portare a pensare dalle priorità e da uno scenario, adesso do subito la parola al professor Billari, trovare e pensare rispetto al nostro futuro. Vi ringrazio dell'attenzione, del tempo e della vostra presenza. Professore. Grazie. Grazie a tutti.